Siamo alla vigilia dell'undicesima edizione del Video Festival d'Imperia e il riconoscimento importantissimo appena ottenuto per il secondo anno consecutivo della medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica. Sì, è una cosa che chiaramente ci riempie di orgoglio ed è un modo di sottolineare un lavoro che portiamo avanti ormai da 11 anni e che non è un lavoro frazionato nel tempo, è un lavoro continuo. Sono 11 anni ininterrotti che lavoriamo a questo progetto per cui chiaramente questo è sicuramente per noi un grande motivo di orgoglio. Questa mattina ci ha contattato la Prefettura d'Imperia appunto per darci questa notizia, per farci avere la medaglia e la cosa impressionante è che è la seconda medaglia consecutiva che normalmente ci è stato detto che non si assegna praticamente mai. Quindi per questo siamo felici. Per quanto riguarda invece il Video Festival, un'altra cosa che ovviamente non può che farci contenti sono state le adesioni, soprattutto le adesioni internazionali. Io scherzo quest'anno quando dico che siamo uno dei maggiori festival, dei più importanti festival spagnoli, non italiani, in quanto appunto abbiamo più di 400 adesioni dalla Spagna e un po' meno di 300 dall'Italia. In totale abbiamo raggiunto 1654 iscrizioni, 1654 film iscritti che arrivano da 90 nazioni del mondo, che più o meno sono la metà delle nazioni riconosciute a livello mondiale. Quindi è un grandissimo lavoro ma chiaramente anche un grandissimo motivo di orgoglio per noi ma per il nostro territorio, per la Liguria e per la città che ospita chiaramente il festival. Visto che è stata lanciata dal Presidente Totti questa scelta di usare questo nostro palazzo, questa enorme impalcatura che abbiamo come un proiettore per trasmettere i video più belli di promozione della nostra regione ma anche i video fatti dai turisti e dai giovani, Io ho pensato, visto che qui oggi stiamo lanciando questa undicesima edizione del video festival d'Imperia, che è diciamo il più importante video festival che abbiamo nella nostra regione e che è internazionale, di caratura internazionale, è stato istintivo dire, ovviamente deciso e già concordato, che il vincitore delle varie sezioni potrà avere il proprio video trasmesso anche sulla regione. È un segno, è un simbolo ovviamente di diciamo legame, vicinanza tra chi promuove questo festival e la regione Liguria. Penso che per gli amatori che vinceranno diciamo questo concorso poter avere il video proiettato magari insomma anche un po' in maniera così costante su questo palazzo penso che possa essere importante e poi non dimentichiamoci che questo video festival è importante perché promuove i video, promuove anche delle professioni come quella dei filmmaker e anche dei giornalisti con dei premi riconosciuti anche alla qualità di queste professioni ma promuove molto anche il territorio e quindi è chiaro che dare la possibilità di trasmettere questi video è anche in maniera indiretta una promozione del territorio, quindi credo che insomma sia una bella iniziativa che possa vederci assolutamente uniti. E poi voglio sottolineare come questo video festival sia importante in sé, abbiamo più di 1400 domande, hanno avuto da 90 nazioni, quindi è evidente ormai la caratura internazionale. È importante dal punto di vista turistico, permettetemi di dire, è importante anche per la sensibilizzazione che fanno le scuole perché le scuole spesso promuovono dei progetti e c'è una campagna e un premio ad hoc per loro fatto dalla provincia di Imperia per quanto riguarda il tema dell'alcolismo e dell'alcol tra i giovani e credo che dobbiamo e possiamo anche prendere spunto da lì per allargarlo anche a livello regionale e per fare in modo che anche questo salone della trasparenza una volta decisi i premi premiati diventa anche un momento per rifar vedere questi video, questi cortometraggi e sui vari temi che sono quello dell'alcol ma anche quello dell'ambiente, rifletterci magari insieme anche con le scolaresche. Penso che possa nascere un bel percorso che si intreccia tra noi come istituzione e loro come promotori di questo festival. Questa manifestazione che poi l'amico Fiorenzo con tanti suoi collaboratori ha portato avanti negli anni è diventato un evento eccezionale, un evento che è video festival nel mondo con grandi partecipanti veramente da tanti paesi, molti film in concorso, un evento importante che sicuramente fa il bene e porta prestigio alla Liguria.